e li faccio vedere io no buccia quindi qua sarebbe ritorno che ci usano illuminante per la guerra passiamo 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 altri sono le serate con quell'amico che si conosce prima non è fatto e con tutto questo davvero credetemi che io ti possa dimenticare mi no voi potete fare qualcosa con la voi sto solo un po' meglio perché sto l'uomo continuiamo l'uomo 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 cosa vuoi sce no non l'uomo sゲ la morte time s s ecc s l la l lo con e e so che non dovrei in quei momenti mi arrendo a vostra al fatto che a volte invece e trovo la forza per volerti bene come se fosse successo niente come se fosse trovo la forza in tutto quello che aveva trovo la forza e sulle giornate passate insieme a ridere, a parlare e dico il cuore che era e non mi dimentico non mi dimentico delle carizze e di quegli abbracci che mi stringeva il cuore non mi dimentico di quei sguardi non mi dimentico di quelli noti passate insieme a parlare tra problemi risolte e paure e non riuscivo ad affrontare e come parla e mi fa dormire e quando avrei avrei venuto a far girare l'uno di lontanese vive vivo Io non voglio farlo, è probabilmente ogni tanto il vostro scopo mi fa la piaccia, ma in fondo va bene così. Ciao Cosmo, ciao Luciano. E vedi tu voi, ciao. E vedi te la voi, ciao. Non andate, no? No, non finite fuori. Andate nel tavolo. Andate nel tavolo. Andate nel tavolo. Andate nel tavolo. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.